Ma non sei contento che finalmente abbiamo un paio di geniuti per noi? La camera dei letti là è molto carina, lo sai? Sì, ma c'è? Che cosa? Eh, in televisore. Sì. Possiamo neanche uscire. Che facciamo? Dai! Ci facciamo le cozzole! 40 ore di cozzole! Ma che sono molto più freddi! Che fai! Che c'è? Le frate sono state chiuse a causa della poppera. Le due coppie si sono veste in viaggio per portare a Roma. Ma non ci possono tornare, quindi la protezione civile ha chiamato l'agenzia e le stiamo andando qui per passare la notte. Pensa un po' tutti insieme sotto lo stesso tempo. Oh, comunque io sono Mauro. Sì. E lei è Barbara. Sì, sì. Ti è piacere, Maggia? Certo, ma sopra poco è l'arma che si chiama... Ma il Mauro non mi piace per niente. Sì, e ti faccio anche erogare che il problema non è colpa mia. E non è di certo colpa mia. Ok, è colpa mia però, eh. Bene, bene, bene. Ora c'è il barzelletto che ti si piace. Almeno fallo in silenzio. Ragazzi, tu hai pensato che fa prendere la pensione del divano? Sì. Dai, io sono la direttrice di un'azienda per compiere. Ma è un lavoro bellissimo! Non ci credo di ora! 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 Morì in croce a 33 anni. Quattro lettere. L'ultima lettera è la U. Ah, tu! Ma stai scherzando! Sara Morcini, Sara... Ah! Quella piatta! Sì, ma adesso è stato sì! Ah, ti ha capito il segno? No, ha una parisi alle mani! Sono tre anni, non mi vedo più con Teresa. E quindi ogni tre anni vengo qui, nello stesso posto, nello stesso bando. Però se non so quello che si è bello! Usare, usare! Questo sarà che merda! Un giorno molto importante! È il compleanno di qualcuno! Sì! A me sta via! Sì, è il compleanno mio! E vai! Ho deciso di lasciarlo! Non conta chi ami! Quello che conta è amare! Quello che conta anche! Grazie!